ben ritrovati ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video come al solito mi raccomando è assolutamente importante l'iscrizione al canale campanativa per essere avvisati nel momento come in questo caso vengono postati dei nuovi contenuto nel momento in cui vengono fatte delle nuove live mi raccomando è assolutamente importante allora questo è solo un video di rimando così come ho fatto per la partita juve milan di qualche giorno fa questo è un video di rimando a quello che sarà il canale da cui andrò a trasmettere quello che sarà la partita juve real madrid io vi invito appunto scrivere canale scrivere anche al canale dove sarà dirottata questa mia live apprezzare lo sforzo perché uno sforzo non indifferente rischio qualcosina qualora insomma qualcuno non se non aggradi diciamo così questa mia scelta io vi appunto vi esorto a supportare il canale nella sua attività facendo questo gesto che è assolutamente gratuito senza particolari problemi per voi meno per me in questo caso poi tra l'altro da questo canale quindi penso che andrò a trasmettere o a postare quelle che saranno gli highlights eventualmente quelle che saranno le interviste le opinioni che verranno rilasciate subito dopo la partita quindi mi raccomando è assolutamente importante il link lo trovate o qui qui in alto oppure in descrizione ci sarà quello che sarà l'indicazione per poter vedere la partita in live in diretta detto questo io vi lascio la partita e mi raccomando fino alla fine sempre solo e nonostante tutto forse aiuto